giac si gira ragazzi appena arrivati con il cesare e il geometra veloci dai la zanetta sempre infuocata ragazzi cesare fammi vedere la giornata comincia bene direi alla grande guardate un po che roma che ha trovato che bello quello che gnocco ragazzi ottimo fammi vedere robbi allora 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 qualcosina bello bello meglio tutti un po fatiti ah vabbè signor fungo cesare fai paura che spettacolo che meraviglia meraviglioso ecco ecco un po crepato due piccolini anche belli dai sgancia un altro molto sofferenti ragazzi e però sono belli eh beh si si roba bella ok quando si trova questi gnocchi qua ragazzi vieni vieni due da staccare ma viene dai guardate il vento ma guardate che roba sto registrando eh uno due uno due tre dai aspetta e uno e uno anche il geometra che è colpito io sapete che io il geometra ho grossi o niente se lo si trovano mi piace di trovare di questa roba qua ma che spettacolo quei funghi qua mi piace trovare di questa roba qua a me piace trovare di questa roba qua ferma andiamo a trovare Cesare che mi ha chiamato che ha bisogno di urgenza fai vedere Cesare mi sei messo che spettacolo belle non so cosa dire guardate qua non ho mai trovato un fungo leggero allora io ne ho amato un altro sopra rovesciato attaccato ma che bello che è a parte che è spettacolare ma guardate che che stranezza è nato sopra ma dai non so se si può la natura è veramente fantastica è spettacolo non ho parole ci siamo ci siamo cominciamo a ragionare cominciamo a ragionare ehi calma oh 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 chiusa eh se lo vuoi continuare questo è un po' bello fiocco arriviamo ecco ecco franchi in azione guardate questo è magico qua si ragiona ragazzi uno due tre quattro dai vai a vedere anche difficili ma sono spettacolari ma che gnocco questo qua ce l'ha un altro attaccato sotto cesare vai che bello madonna duro come l'acciaio ottimo questo è l'ultimo della giornata o forse ciao ciao